Benvenuti in questa nuova puntata, io sono Federico Ronzoni e quella che state vedendo adesso è una delle puntate più importanti di questo 2022 nel mio canale YouTube. Per piacere guardate questa puntata fino alla fine, è molto importante, ci tengo davvero. Tanto ovviamente non sono consigli finanziari, fate le vostre ricerche prima di investire e mettere a rischio il vostro capitale e andiamo subito a vedere non il prezzo di Bitcoin, perché il prezzo di Bitcoin oggi non ci interessa. C'è il video di ieri, se volete vedere quello che è successo su Bitcoin, se volete un'analisi approfondita, guardate, è qui il video, ok? Ve lo andate a vedere, Bitcoin, il grafico non è bello, è cambiato qualcosa e scoprirete un po' cosa ne penso del prezzo di Bitcoin. Oggi questo grafico, guardate, metto una X, non ci interessa. Il grafico, ricordiamoci, che è sempre, consideriamolo rumore per chi è un investitore di lungo termine su qualsiasi tipologia di asset. Tutte queste candeline qua, ragazzi, rumore. Se uno vuole vedere semplicemente come si muove un asset, va a vedere una media, tipo questa qui, 21 sul giornaliero, chiude, ecco come si muove il prezzo. Qua c'è molto meno rumore. Ma non è questo di cui voglio parlare oggi, ma voglio parlare di questa notizia. BlackRock presta soldi alla società in banca rotta di mining di Bitcoin, chiamata Core Scientific. Non è la prima volta che io parlo di Core Scientific. Abbiamo attraversato un po' questa faccenda di Core Scientific e adesso ve la spiegherò. Però questa è una notizia che secondo me è molto importante e che dovrebbe far riflettere. Ok? Quindi voglio riflessioni, voglio i vostri commenti qua sotto, voglio sapere cosa ne pensate. Mettete un like, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Siete pronti? Iniziamo. Allora, BlackRock presta soldi all'azienda di mining di Bitcoin in banca rotta, chiamata Core Scientific. Notizia delle 8.25, condivisa subito all'interno del mio gruppo Telegram gratuito Tartoro. Trovate il link qui sotto in descrizione. Vi condivido un sacco di notizie importanti, di qualità. Iscrivetevi. Quindi è gratis, non costa niente e rimanete sempre aggiornati sul mondo, cripto e mondo finanza. Ok? Quindi, BlackRock presta soldi ad un'azienda e fin qua, ottimo. Il problema è che, in realtà non c'è nessun problema, devo stare attento come pa... E che termine? Non c'è nessun problema. Anzi, è una cosa interessante. BlackRock presta soldi all'azienda di mining, Core Scientific. Core Scientific è uno dei più grandi, più grandi miner di Bitcoin al mondo. Da solo, Core Scientific contribuisce a quasi il 10% di tutta la potenza di calcolo per la sicurezza del network di Bitcoin. Cos'è Core Scientific? La vediamo qua. È una società quotata nel Nasdaq, tra l'altro. Eccola qui, Core Scientific. Guardate qui. Cercate cos'è Core Scientific e lo vedrete. Eccola qui. Core Scientific è un'azienda che si occupa di mining di Bitcoin. Ok? C'è il loro sito, non c'è il loro sito. Dov'è? Core Scientific, eccola qua. Core Scientific. Questo qui è il loro sito. What we do about investors contact. Questo è quello che fanno. Fanno mining di Bitcoin. È una società, tra l'altro, quotata nel Nasdaq. Vedete? What we do. Vediamo. Digital assets self-mining. Bitcoin, ecco, qui vi fa vedere un po' quello che fanno. Chi sono, cosa minano. Vediamo investitori. Questo non l'ho visto, lo vedo per la prima volta con voi. Mi piace fare queste ricerche. Vabbè, qui ci sono articoli, eccetera, eccetera. Però questo è, vedete, quanti Bitcoin ha nominato oggi? 47,5. Praticamente oggi ha nominato 47,5 Bitcoin. Ora, ora, attenzione. Core Scientific è una delle aziende più importanti sul mining di Bitcoin. Tra l'altro, è un'azienda pubblica. Se andiamo a vedere all'interno del mio gruppo Telegram gratuito, tra l'altro adesso vediamo se mi fa Core Scientific. Core Scientific, eccolo qua. Vedete che noi parliamo di Core Scientific dal ottobre 27, 2022. Il titolo in borsa di Core Scientific, una delle grandi aziende di Bitcoin, più grande al mondo, è crollata di oltre il 70% oggi. Core Scientific ha avvertito che potrebbe andare in fallimento. Spoiler, è andata in fallimento. Se non riuscirà a migliorare le sue condizioni finanziarie. Non c'è riuscita. L'avviso ha fatto scendere le situazioni del 77% a un minimo di 23 centesimi di dollaro. Ora, le azioni di Core Scientific, quanto valgono? 0,077 centesimi. Inoltre aggiungono che prevedono che le risorse di cassa esistenti si esauriranno entro la fine dell'anno o forse prima. Così è successo. Poi, un mese dopo, vi riscrivo, Core Scientific, uno dei miner di Bitcoin più importante, ha perso 1,7 miliardi di dollari quest'anno. Core Scientific prevede, bla bla bla, l'insolvenza potrebbe arrivare. Core Scientific, 10% dell'ash rate di Bitcoin, che è questo qui. Ok, 10% è solo una società, per dirvi. Le azioni della società sono scese del 98% quest'anno a circa 16 centesimi. Capitolazioni dai miners. Ne abbiamo parlato anche nel post dedicato all'ash rate questa mattina. Che era quale? Eccolo qui. L'ash rate di Bitcoin è ancora ai massimi storici. Qui eravamo nel novembre 22. Adesso l'ash rate non è più ai massimi storici. è iniziato a scendere, che potrebbe portare a una capitazione dei miners. Guardate qui, nel ciclo del 2018, l'ash rate di BTC ha continuato a salire quando il prezzo di Bitcoin ha raggiunto il minimo di 6 mila dollari. La capitulazione definitiva dei minatori è arrivata quando BTC è scesa a 3 mila dollari. Qui saliva, vedete, è sceso l'ash rate ed è sceso anche poi finalmente il prezzo di Bitcoin. Ora, vedete che anche qui sta scendendo l'ash rate. Tra l'altro, il prezzo è, qui era, che giorno era, il 22, quindi il casino di FTX era già successo ed eravamo qui. Ok, quindi sì, il prezzo era già sceso, stava ancora, doveva ancora un po' riscendere, quindi in realtà era già successa la notizia di FTX e tutto, quindi qui non era successo nulla. Però vedete che poi ha iniziato a scendere, guardate, scende, scende, e ancora praticamente sui minimi da... No, in realtà adesso sta scendendo, però è invertito il trend, si può dire attualmente l'ash rate. Questo è importante perché vi faccio vedere come nel 2018, se andiamo a vedere il grafico dell'ash rate, guardate qua, il prezzo, adesso qui non mi fa zoomare, è ottimo, però guardate qui, ok, lo vedete, l'ash rate è diminuito e il prezzo ha finalmente trovato il fondo. Poi l'ash rate ha continuato a salire, e poi, vedete, sempre salita, poi qua è crollato con il minimo, tranquilli, quando è andato a salire, quando è andato a salire, è crollato un attimino, però vedete che continuava a salire l'ash rate, e questo può essere anche un segno effettivamente di bottom, no? La capitolazione dei miners di Bitcoin è uno dei tanti indicatori che c'è. Però è interessante, no? Cosa dite? È interessante. Guardate qui, boom, praticamente è passato da 52 a quanto? 30, quasi un 50%, più o meno valeva anche 60 volte, da 60 a 30, qui siamo andati a 272 a 222, quindi diciamo che l'ash rate potrebbe crollare ancora benissimo, un pochettino, se ci basiamo su qua, quanto era accaduto? Del 178, 97, sì, diciamo che più o meno potrebbe avere ancora un po' di spazio, però non è questo quello che ci interessa. Quello che ci interessa è che, vedete che poi, Core Scientific continuava, ok, e ha deciso di dichiarare bancarotta, quando? Il 21 dicembre, Core Scientific ha dichiarato bancarotta e ha deciso di aprire la procedura di CHAPT 11. Mi state seguendo? Core Scientific in difficoltà, titolo societario in caduta libera, questo perché le ricompense dei mining, tanti fattori, ok? Sempre meno inferiori, il prezzo di Bitcoin si abbassava, il costo dell'energia, debiti che questi qui hanno preso in bull market, insomma, un disastro. E la società ha dichiarato fallimento, bancarotta per la procedura, ed è aperta la procedura di CHAPT 11, ok? Poi, vi ho mandato quest'altra cosa qui, le società quotate in borsa di mining Bitcoin hanno un passivo di più di 4 miliardi di dollari in balancio, vedete che Core Scientific è praticamente una delle peggiori, vabbè, che era anche una delle più grandi, quindi ci sta, però è un disastro. E poi, tra l'altro, some of these companies may reduce debt through ongoing risk tra... Ok, quella è la ristrutturazione. Adesso non lo dico, sennò faccio una brutta figura. Quindi, praticamente, sono tutte un po' in difficoltà, queste grandi aziende, soprattutto quotate in borsa, che hanno magari preso dei debiti, e insomma, adesso stanno facendo un po' di fattica video, e vi continuavo a scrivere questa capitolazione dei miners. Ora, ora, arriviamo a noi, e questo era importante, ragazzi, se non vi faccio vedere queste cose qui, poi rischiate di perdere il prezzo. Il pezzo. Il prezzo, lasciamo stare, di Bitcoin. BlackRock presta soldi all'azienda di mining di Bitcoin in banca rotta Core Scientific. Cosa succede? Vedete, loro hanno praticamente dato soldi freschi a Core Scientific per farli continuare a operare, e continuare a, diciamo, fare le loro operazioni di mining. Sennò questi qui, ragazzi, in banca rotta, senza soldi, come facevano a minarli il 47.5 Bitcoin, oggi, non ci riuscivano, ok? Quindi avevano bisogno, tra l'altro di ieri, perdonatemi, 29.12, è un giorno prima. Come facevano? Non potevano farlo, eccolo qui. BlackRock, vedete, BlackRock is among a group of creditors, che significa among, dovrebbe significa, fa parte, ok? Quindi non solamente BlackRock, BlackRock fa parte di un gruppo di creditori che ha prestato denaro al minatore di Bitcoin, vabbè, leggiamolo in inglese, che è meglio. Quindi BlackRock fa parte di un gruppo di creditori che ha prestato soldi al Bitcoin miner core scientific, cosicché possa continuare ad operare mentre è in banca rotta, according to a feeling from the asset manager. Quindi in base a delle fonti di asset manager, cos'è? Secondo un gestore patrimoniale, ok? beh, secondo fonti effettive, tra l'altro la notizia è riportata da Bloomberg, quindi non è che non dovrebbero sparare cavolate. BlackRock, bla bla bla, continuano a prestare soldi e vedete che qui the funds managed by the firm also held. Vabbè, gli hanno prestato anche, tra l'altro, altri soldi, se non erro, leggiamolo in italiano. BlackRock ha impiegato 17 milioni di dollari di un debitore in possesso tramite fondi e conti gestioni delle sue sussidiari, i fondi gestiti della società detenevano anche 37,9 milioni di dollari in obbligazioni convertibili. Poi ci andiamo, ok? Vabbè, comunque in ogni caso hanno prestato soldi. BlackRock e altre aziende hanno, altre società hanno prestato soldi, ok? A Core Scientific. Qui vi fa vedere che questa qui era una azienda di mining con sede a Dustin, in Texas, e che aveva fatto, praticamente, aveva compilato questo capitolo 11 sulla bancarotta negli Stati Uniti, e ha avuto l'accesso a 37,5 milioni di dollari di denaro fresco da un gruppo di creditori che avevano praticamente più di 550 milioni di obbligazioni, convertibles notes, convertibili, che praticamente, insomma, chi era creditore di questa azienda gli ha dato altri soldi per continuare ad operare. VetDev has an interest rate of 10%, interessante, che praticamente gli hanno dato un prestito con, pagabile in natura, gli hanno dato un prestito al tasso del 10%. Comunque, occhio perché ora arriviamo. Core Scientific è uno dei più grandi, è uno dei più grandi miners di Bitcoin, che contribuisce a circa il 10% della potenza di calcolo di tutto il network di Bitcoin. It is among a handful of public miners, ok? Questo fa parte, Core Scientific, come abbiamo visto prima, dal grafico di prima, delle società quotate in borsa che hanno problemi, ecco, fa parte di, insomma, un gruppo di miners che hanno raccolto tanti finanziamenti durante l'ultimo bull market e ora stanno facendo fatica a rimanere a galla quando il mercato delle cripto è crollato e i costi dell'energia sono saliti, negli Stati Uniti di meno, ma comunque sono saliti. Quindi, la situazione è chiara, BlackRock e altri investitori hanno dato soldi a Core Scientific per continuare ad andare avanti. Ora, ora, ci sono dei punti interessanti. Innanzitutto, chi è BlackRock? Perché tanti, magari, io lo do per scontato, chi sono BlackRock, ma tante persone non lo sanno. BlackRock è una società di investimento, è una delle società di investimento più importanti e più grandi al mondo. Guardate quanto assets hanno sotto di loro, assets under management, 10 trilioni USD. Questo a gennaio 2022. Cioè, sono un colosso, ok? E BlackRock, magari qualche milioncino per BlackRock non è niente, però, insomma, BlackRock è una delle società più importanti al mondo sotto il punto di vista finanziario. tra l'altro hanno un sacco di partecipazioni in un sacco di di altre società. Vedete qui il portafoglio, dovrebbe essere, di BlackRock. Eccolo qui, praticamente, il top 10 holding. Se andiamo a vedere, hanno tutto. Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Google. Questo cos'è? United Health. Poi c'è Google, Alphabet, poi Johnson & Johnson, Berkshire Hathaway, ExxonMobil. Insomma, hanno, praticamente, credo, tutte le, Meta, JP Morgan, Nvidia, tutte, hanno un sacco di partecipazioni in tante, vedete, la maggior parte è il 6% in Apple, poi un altro 6% in Microsoft, un 5.7% in Amazon, eccetera, eccetera, eccetera. questo poi potete andarlo a vedere direttamente voi volete andare a cercare BlackRock Holding e trovate un po' quello che hanno. Insomma, sono un colosso e hanno tanti soldi in gestione. Tra l'altro, interessante, che BlackRock quest'anno ha avuto delle signori performance. Insomma, io, ovviamente, ripeto, non sono consigli finanziari, fate sempre le vostre cerche prima di mettere a rischio il vostro capitale all'interno dei mercati, ma se andiamo a vedere un attimo le performance dell'SP500, notiamo che l'SP500 ha avuto quest'anno un meno 19.44%, BlackRock bisogna dire che quest'anno ha avuto un meno 22%, insomma, ha avuto delle performance comunque in linea con, possiamo dire, con l'SP500, ok? Questo, secondo me, è uno dei tanti fattori che ci può dire se è, insomma, un'azione interessante oppure no, perché se tiene l'SP500 è ottimo. Se andiamo a vedere anche le performance a 5 anni, guardate qui le performance dal 1900, cos'è qui? il 1999 ad oggi, che roba, e negli ultimi 5 anni ha fatto il 34.75%, ora, io non so quanto abbia fatto l'SP500 negli ultimi 5 anni, dovrebbe essere da qui in poi, vediamo quanto ha fatto, allora, se andiamo a calcolare qui, ha fatto praticamente il 53%, comunque, delle buone performance. Ora, questi qui di BlackRock, ragazzi, se già li conoscevate, non sono, non sono delle persone, non sono gli ultimi arrivati, sanno quello che stanno facendo e hanno tanta esperienza all'interno dei mercati. loro hanno prestato soldi a una società che fa mining. Secondo voi, secondo voi, cos'è che fa un creditore? Io ti presto soldi perché ho fiducia in quello che fai, perché so che in un qualche modo le cose che tu fai sono interessanti, io riuscirei comunque a ripagarmi il debito che hai nei miei confronti, cioè, cosa fa un creditore? Se io ti presto dei soldi, cosa fa una banca quando presta dei soldi? Cioè, effettivamente, dice, ok, sì, tu puoi essere in grado, questi qui gli danno gli interessi, gli danno magari le convertible notes che non sono altro che delle obbligazioni che possono essere convertite e interessante queste che si possono poi convertire in quote societarie nel caso in cui non dovessero, cioè, possono essere ripagate in cash o comunque in quote societarie, interessante, guardate anche cosa sono queste. Quindi, poche parole, ragazzi, per farla breve, BlackRock presta dei soldi a questa società di mining, perché? Perché comunque in ogni caso dice, ok, cioè, non è che uno presta dei soldi così per beneficenza, perché pensa che può ripagare il debito e pensa che comunque la società questa qui sia buona, cioè, comunque, anche se c'è in fallimento e comunque gli danno i soldi. quindi, nel caso in cui comunque non dovesse essere in grado di pagare, praticamente prendono poi delle quote, ricordiamoci che comunque essendo, avendo il 10% di computing power della network di bitcoin, insomma, è una società importante core scientific di un certo rilievo. E questo è interessante, perché in un qualche modo mi fa venire il mio ragionamento che mi sono fatto è BlackRock allora dice non per forza che bitcoin è futuro, non dice questo. BlackRock dice che in un qualche modo il business questo qui del mining di bitcoin è interessante e può far guadagnare soldi, perché se no io non presto dei soldi a una persona. Quindi, in un certo modo, in un certo senso, trova profittevole fare il mining di bitcoin. Ora, il mining di bitcoin è una situazione articolata, tanti dicono ma inizio a fare mining di bitcoin in casa? Io ho sempre detto che secondo me non ha molto, magari 10 anni fa ok, ma adesso non ha molto senso fare mining di bitcoin in quantità, cioè, in dimensioni ridotte, quindi una cosa casalinga non ha tanto senso, magari sì a livello didattico, però come attività imprenditoriale cioè, devi farla a una scala un po' più grande, ci sono costi di entrata alti, non è un settore facile, cioè, non è facile, poi sapete che ogni volta che c'è l'halving diventa sempre più complicato, ci sono sempre costi più alti, quindi, poi con i costi di energia in Italia non parliamone. Però ecco, è interessante ragazzi questo, perché BlackRock in un qualche modo trova interessante il settore del mining e di conseguenza bitcoin, perché fanno mining bitcoin e questi qui minano bitcoin, 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 gira tutto intorno a bitcoin. Ora, ora, a me, ripeto, BlackRock non mi sembrano degli sprovveduti, guardate che performance, meno 99% core scientific, ovviamente è colpa anche del crollo del mercato delle cripte, eccetera, eccetera, e anche magari di una gestione loro sbagliata, di quello che avevano, però insomma mi fa interessante, mi fa interessante questo, cioè mi fa veramente riflettere, perché io dico, ci sono le persone adesso che pensano, ah no, bitcoin, è finito tutto, e questi qua di BlackRock cosa fanno? Prestano soldi? Ovviamente per guadagnarci poi qualcosa, non è che regalano soldi ragazzi, ci prestano soldi per far cosa, o per guadagnare quote societarie, o per farsi ripagare gli interessi, ma se io presto soldi è perché so che quel settore può essere interessante e perché so che in un qualche modo mi puoi ripagare, ok, qui magari diciamo che non gliene freghi niente del mining di bitcoin, però so che comunque in un certo modo i soldi puoi darmeli, però avete qua course convertible notes, quindi poi magari ha queste quote societarie che può rivenderle, può gestirle in un qualche modo, insomma in poche parole c'è dentro, ok, c'è dentro il settore del mining di bitcoin e di conseguenza di bitcoin, questo, questo fa riflette perché mentre c'è la maggior parte delle persone al momento che sta scappando dal mercato delle criptovalute, ci sono colossi come BlackRock, questa è la mia conclusione che comunque investono nel settore perché prestare dei soldi è come comunque in un certo senso investire soprattutto a una società di mining di bitcoin che è scientific, che abbiamo visto tutta la storia che è 10% insomma dell'ash rate per tenere sul network di bitcoin è una società importante quindi questo mi ha fatto riflettere la maggior parte delle persone sta scappando da questo settore BlackRock dà soldi a una società di mining di bitcoin che poi magari 17 milioni quello che è sono poche robe no? però c'è dentro hanno un piede dentro mentre le persone escono loro mettono un piede dentro questo poi ovviamente tirate fuori le vostre conclusioni scusatemi video lungo ma volevo appunto parlarne un po' con voi secondo me è una notizia interessantissima questa che volevo condividere infatti appena l'ho letto ho detto devo farci un video e devo parlarne veramente veramente interessante veramente veramente interessante quello che ho letto e cioè perché mi fa proprio si vede proprio la differenza tra la persona retail e le società così istituzionali le società grosse le società di insomma una signora società come BlackRock che detiene come abbiamo visto tanti 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 soldi sotto la loro gestione eccola qui cioè hanno 10 trilioni di USD cioè ragazzi questo è il discorso poi ovviamente uno tra le proprie conclusioni io la mia l'ho tratta che il settore delle crypto non è finito bitcoin non è finito ci continuo a credere in questo settore penso che da qua a un paio di anni ritornerà a salire il settore ovviamente non è un consiglio finanziario fate le vostre ricerche ragazzi vedete che io mi faccio le mie ricerche fatene anche voi andatevi a leggere gli articoli andate a cercare le informazioni collegate i puntini è bellissimo è bellissimo studiare e fare queste cose di ricerca quindi mi raccomando studiate sempre di più e informatevi perché grazie a internet possiamo praticamente avere un sacco di informazioni guardate qui quelle informazioni abbiamo avuto come abbiamo potuto vedere tutto e io la mia idea me la sono fatta magari è un'idea sbagliata fatemelo sapere qui sotto magari uno dice sì vabbè ma hanno prestato quei soldi ma tanto il mercato cripto fallisce ognuno trae le proprie conclusioni io la mia la tratta e credo che continuare a rimanere in questo settore in questo mercato sia una scelta giusta da fare questo è noi ci vediamo alla prossima puntata buon anno a tutti ciao ciao